Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati da Simobrix Oggi siamo qui per vedere questo magnifico splendente mok Appena finito, appena sfornato dalla mia mente creativa Ecco qua vi presento la miniera Ok Innanzitutto notate subito che è una miniera ferroviaria Quindi il nostro treno merci che passerà potrà prendere i minerali Che in questo caso non è nient'altro che roccia Come vedete dal carro Ma passiamo subito a vedere i dettagli Il carro lo vediamo dopo Anche la ruspa, insomma questa l'avete già visto Cioè voi in giro mi sembra una ruspa e tac Allora innanzitutto vi devo dire due cosette sulla città Quest'anno la città voglio aumentare il numero di treni In che ho deciso di acquistare il treno passeggeri della Lego City con lo bianco Che l'ho visto circa su Amazon a 103 euro e mi sembra un'offerta buona E sotto Pasqua lo comprerò Salvo imprevisti Spero di no Comunque Vi faccio sapere una cosa Allora il treno a vapore è classico che sapete benissimo Che è il mio magnifico treno Nessun altro ne ha un treno così bello Ha fatto mock Nessuno Correrà in questo binario Ok Allora una cosa da notare Non sarà un binario morto Perché Qua a breve C'è un'altra struttura ferroviaria Che non vi spoilero Che a breve vi farò vedere Ok Ma passiamo subito a vedere le cose Vando alle ciance E iniziamo subito Allora Innanzitutto qui abbiamo una piccola area di lavoro In cui Ponete qua ci sarà un attraversamento Un attraversamento ferroviario Con Con l'attraversamento sapete quello del treno Che finalmente ne avrò uno E ne approfitto per Fare una specie di attraversamento In cui il nostro camion Il mio camion classico Che conoscete benissimo Arriverà qua alla miniera Scaricherà la gru Sì la gru La ruspa Farà Insomma Quel che deve fare Magari qua dietro faremo una piccola zona di scarico Carico Molto un po' industriale Con cassonetti Così così Camion Aere di scarico Qualcosa di Di così Ok Però stavo pensando Di metterci Al camion Di fare una specie di rimorchio alternativo Con un Con un cassone ribaltabile Che possa portare La roccia Allora Però l'unica cosa A cui stavo pensando E che Effettivamente Ci vorrebbe una gru Però Non dispongo del pezzo adatto Sapete che c'è una specie di pala Che riesce a prendere mattoncini In modo molto tranquillo Che io non possiedo Quindi Non so cosa creare Magari Magari Proverò Trovare una soluzione Più semplice Magari Proprio lascio perdere Non faccio nessun tipo di gru Ci sarebbe l'opzione gancio Però l'opzione gancio Non è affidabile Perché sapete Dobbiamo prelevare Della roccia E non è un carico fisso Tipo Un cassone Un cassone Non è Carico fisso Quindi il problema Sarà come fare Vabbè Allora Ribando le ciance Qua abbiamo La cassetta dell'acqua Insomma Non so come chiamarla È una Non so Cosa Cosa dei treni a vapore Che mette l'acqua nel sistema E basta È messo abbastanza giusto In modo che nessun treno Lo prenda dentro Ho fatto delle misure Niente Dovrebbe prendere niente Forse l'albero Che è girato Nel modo sbagliato Si è messo in questo modo Non dovrebbe dar fastidio Al treno a vapore Che è un'altezza Abbastanza alta Qua abbiamo La porta di entrata Della miniera Simulata Chiusa Perché è comunque Una miniera vecchia E adesso Si è modernizzata E stanno iniziando A minare fuori Vedete che Il terreno è un po' scolpito Intanto Tolgo questo Che dà fastidio Che il terreno È un po' scolpito Ok quindi È fatto così Poi abbiamo Delle piccozze Dei vari attrezzi Molto interessanti Ho deciso di mettere Molta vegetazione Per dargli un aspetto Molto 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 rustico Anche vedete La roccia in giro Sui binari del treno Adesso ve lo faccio vedere meglio Vedete Molto realistico Anche il retro È abbastanza fatto bene Perché comunque Nella mia città Voi sapete che ci sono due zone Cioè Una di visualizzazione E un'altra di visualizzazione Non è da vedere In una sola direzione In una direzione si gioca E anche nell'altra si gioca Quindi Lo dico così Gioca perché Come dobbiamo dirlo Cioè Ci sarà un binario qua E un binario qua Poi Nel Come mettere Come posizionerò Queste cose nella città Farò un video Appena inizierò Comunque credo Dopo Pasqua Perché Prima di Pasqua Non posso Perché Non c'è spazio C'è un casino Col tavolo E solo dopo Pasqua Riesco a sistemarlo Perché Veramente È una cosa In mane Ma ora Vi faccio vedere Un'altra cosa Vabbè A parte che qui dentro C'è una mela E qualche attrezzo Stupido Per Per Rilassare Far rilassare Gli operatori Della miniera Intanto vediamo Un'altra views Da dietro Cosa che Non si dovrebbe vedere Ma si vede È un po' Molto Vedete Molto Ma molto Roccioso Intanto Tentato di coprire In qualche modo Le grotte Tranne questa Che ho nascosto Del minerale d'oro Perché Perché no Insomma E Ok Ora Passiamo a vedere La nostra carrozza Del Del carbone O Perché Ok Per questa carrozza Veramente ci ha impiegato Tanto Crearla Perché All'inizio Avevo dei problemi Sul design Non sapevo bene Cosa fare Alla fine Sono venuto A capo Con questa soluzione Vedete Ho utilizzato Queste placche Sono quelle curve Che si trovano Benissimo All'ego store A Milano E lì ce ne erano Veramente tante Le avevo prese Circa l'anno scorso L'ultima volta Che ci sono andato Le avevo prese tante E eccole qua Vedete Una soluzione semplice Magari ecco Col pezzo rosso là Questo qua Potrei cambiarlo Magari mettere Qualcosa che risalta Di meno Perché no Poi Qua come sapete Che io non ho i magneti Ci ho messo questi Che c'erano sul Praticamente Ho Ho tolto Il carro Vecchio Se ve lo ricordate E ho lasciato Lo chassis Di base È quello Qua davanti Il magneto Ovviamente Se no non si collega Sì ci sarebbe Anche l'opzione Con i perni Technic Però Devo dire Che È più Noioso Cioè Ok in quel modo Si possono fare Più carrozze Perché se voi Avete le ruote Ne fate ad aiuse Intanto ieri Stavo guardando Guardando su internet Lo shopping Per comprare Questi magneti E le ruote Che costano Veramente tanto Ma tanto E Non lo so Non so se ne acquisterò Nuovi E Niente E Ok Questo carro È a posto Io vi ringrazio Per la visione Ciao E alla prossima